Come vi dicevo, parleremo di, o meglio, creerò in questo video le condizioni, cercherò di costruire in questo video le condizioni che ci permetteranno di esaminare un tantino a fondo gli argomenti attraverso i quali Sergio Galvan dimostra che da un punto di vista delle logiche formali o della logica analitica, il modo in cui Severino intende il divenire presuppone che l'esserci debba coincidere con l'apparire stesso e quindi presuppone che causa dell'apparire sia l'apparire. Questa è la conclusione della dimostrazione di Sergio Galvan. Capite che se voi dite che Giulio corre e il correre, la causa del correre di Giulio sia che Giulio corre, questo può apparire agli occhi di chi ammette che la causa sta nell'essere, qualcosa, una conclusione assurda. Quindi vi ho già detto la conclusione di tutto il discorso di Galvan. In poche parole, Galvan arriverà a dimostrare che Severino, per ammettere che il divenire è un'illusione, dovrà ammettere che alla domanda che si può porre a Severino perché di all'apparire, perché di all'apparire, questa risposta non è ritenuta valida agli occhi di chi, alla domanda perché di all'apparire, si sentirà, dovrà rispondere perché è. Ok? Vi ho dato già subito la conclusione di quello che sarà tutto quanto il discorso di Galvan. Galvan. Il fatto fondamentale è che Galvan tutto questo in qualche modo riesce a dimostrarlo. Ecco, non è una, diciamo, non è un'intuizione verbalizzata, per esempio come aveva fatto Vitiello. Vitiello, perché in uno dei testi dove si parla, no, dove c'è un confronto, ma non mi ricordo più qual era il testo, comunque è detto dalla Mimesis, c'è un confronto tra Severino e Vitiello e a un certo punto Vitiello chiede a Severino ma me la fa questa distinzione tra essere e apparire, Severino non risponde in maniera netta alla richiesta di Vitiello, perché probabilmente Severino aveva già in mente quello che aveva scritto Galvan nel 2006 riguardo appunto a questo articolo Tempo e realtà del divenire, e quindi una risposta chiara non vuole darla, in questo senso, o non può darla. Ora, quindi vi ho già detto la conclusione del dramma, quale sarà, però vi pongo anche, diciamo, vi chiedo anche di fare molta attenzione a tutto quello che porta a questa conclusione e vi apro però già un'altra, già quelli che saranno gli sviluppi ulteriori di questo tipo di conclusione. Se alla domanda che possiamo porre a Severino, perché vi è l'apparire, Severino è costretto a rispondere, vi è l'apparire perché appare e non perché è, e questo è il punto. Quindi noi poniamo la domanda a Severino, perché vi è l'apparire e Severino è costretto a rispondere, dopo che lo avremo visto, avremo visto quanto dice Galvan, perché appare. Dall'altro immaginate un Bontadini, uno risponde Bontadini alla domanda perché vi è l'apparire, Bontadini risponderebbe perché è, ok? Come capite si aprono due visioni della realtà, e questo è il punto, si aprono due visioni della realtà. Per Severino l'esserci dell'apparire è l'apparire. Già, quando comincio a parlare così, già sentite l'odore della Trinità, l'odore della Trinità all'apparire, no? Sentite come Severino ha cercato di risolvere il problema, ma sempre all'apparire è andato a finire. Dall'altra parte quindi avrete un Bontadini che vi dice alla domanda perché vi è l'apparire, Bontadini risponde perché è. E qui dall'altra parte vedrete tutto ciò che è legato, diciamo, a come Tommaso, poche parole, poi tutti da lì derivano, tutte queste cose vengono da lì, come Tommaso risponde a questo, c'è l'essere, l'essere inteso da tutta la tradizione cristiana, no? Quindi l'essere creato, attenzione bene, quindi essere inteso dalla tradizione cristiana si intende l'essere creato, l'essere che c'è, ma anche non c'è, no? Nullificazione, anticidio nelle parole di Severino, eccetera, eccetera. Ma per evitare quindi questa nullificazione dell'essere è necessario dire che l'esserci è l'apparire, l'esserci dell'ente è nient'altro che l'apparire. Bene, vi apro però un ulteriore problema, che però non vedremo in questo video, perché questo video vuole essere una, diciamo, un'apertura, un inizio, un cenno a quelle che sono le ontologie temporali, lo vedremo tra cinque minuti, sto già perdendo tempo. Però voglio farvela questa introduzione, perché se no tutto questo discorso è un discorso che si inserisce in un dialogo che ormai va avanti da anni, in ricerche che vanno ormai avanti da anni. Voglio concludere però questa piccola breve, questo piccolo breve cenno, preambolo a quanto starò per dire, dicendovi questo. Possiamo anche pensare all'apparire, sostituire, sostituite la parola apparire con la parola simulare e sostituite la parola di Severino, diciamo la risposta alla domanda, perché l'apparire? Perché vi è il simulare? La risposta sarebbe perché simula. Ora, come vedete, e ricordate tutto quello che abbiamo detto sulle simulazioni, come vedete, se voi andate a sostituire la parola apparire con la parola simulare e la risposta di Severino con perché appare, con perché simula, beh, allora questa risposta non è più così peregrina. Ok? Vi sarà un momento in cui noi introdurremo, forse in modo ancora più specifico, perché non mi limito a ripetere quello che dice Galvan, ma ci saranno approfondimenti in questo senso, forse in modo ancora più specifico, introdurremo la parire come un operatore. Vedrete che la parire è un operatore epistemico, faremo vedere in che senso, daremo una semantica di questo operatore e se collegate tutto questo a quanto abbiamo detto sulle simulazioni, dire che è un operatore epistemico, la parire significa che lo pensiamo analogamente a come pensiamo all'operatore epistemico K, per come è definito nelle logiche modali. Quindi tutto il discorso in un certo senso di Severino, anche non per come l'ha espresso Severino, però una parte del discorso di Severino può essere pensata con il sostituire il termine apparire con il termine simulare. E quindi si apre in questo senso una prospettiva diversa, diversa anche da quello che Severino stesso ha pensato. Ora voglio dire questo, tutte le discussioni fino a ieri sera, c'è stato ancora un confronto tra Luigi Pavone, Angelo Santini, un po' chi è interessato a questi temi segue questi confronti, queste discussioni, questi dialoghi. Ancora una volta si insiste su incontrovertibilità, fondatezza e così via. Ancora una volta si legge proprio come vi è, diciamo, come il problema dell'indessicabilità del discorso di Severino emerge in questi dialoghi, in questi confronti. Emerge perché si hanno, si sono a confronto due tipi di pensiero, completamente diversi, completamente veramente. E in questo senso vi dicevo, Severino è in un qualche modo alieno, cioè se deve essere preso in considerazione come filosofo, cosa che io faccio, è filosofo in un certo senso alieno, cioè quello che lui, come avevo detto già nel video precedente, intende per semantica, non è quello che si intende normalmente per semantica, fondamentalmente perché per Severino non vi è una nozione corrispondentista di verità. Quindi tutte le logiche formali, tutte le semantiche di cui può parlare un filosofo analitico che si interessa di formalizzazioni, anche se in un senso filosofico, eccetera, come Luigi Pavone, e che cosa intende? Intende per semantica una, il concetto di verità in senso corrispondentistico, ecco che piano piano, in un certo senso, già ieri sera diceva Luigi Pavone mi interesserò di naturalismo, quindi in fondo il discorso un po' che poi potrà tendere a quello di Sirle, eccetera, eccetera, a partire da qua e così via. Il discorso è però, se uno lo deve affrontare seriamente, ma se io non accetto, cioè se Severino, un severiniano dice io non accetto il concetto di verità in senso corrispondentista, ok? Ecco, come faccio io a comunicare con qualcuno che necessariamente deve partire, parte dal concetto di verità in senso corrispondentista. Come comunicano questi due? Come fanno ad intendersi? Questo è uno. D'altra parte, Santini, purtroppo bisogna dirlo, non si preoccupa di fare esempi di ciò che si può intendere per semantica in un discorso, tra virgolette, severiniano. E così, a fare i giri su Facebook, eccetera, eccetera, è per tutti la stessa cosa. Cioè, nessuno si preoccupa di dire, ma che si intende per semantica, per Severino? Cos'intende semantica? In generale esiste una risposta, si può dare una risposta. Ah sì! Allora, questa risposta deve prendere il primo, è l'ultimo libro di Severino, e studiarseli bene. Il primo libro è la struttura originaria, è l'ultimo libro testimoniano del destino. Intendo quelli che per me sono due libri, in un certo senso, che aprono e chiudono un certo cerchio, non che completano tutto quello che vuole dire Severino. Nel primo libro, nella struttura originaria, è il libro in cui si parla seriamente di iposintassi, persintassi, eccetera, eccetera. Nell'ultimo libro, in testimoniano del destino, Severino fa degli esempi della ricerca semantica, per come le intende lui. Quindi, al limite, chi si reputa severiniano e vuole dare esempi del tipo di ricerca che si può fare nell'ambito di una semantica aliena, da questo punto di vista, aliena dalle forme di semantica che ordinariamente usano i filosofi analitici, filoformali, eccetera, deve necessariamente partire da struttura originaria e testimoniano del destino. Come minimo, deve portare degli esempi, che potrebbero essere, appunto, gli esempi che porta Severino in testimoniano del destino. E da lì si può cominciare ad imbastire un discorso. Questo perché, come vi ripeto, e non mi stanco di dirlo, Galvan dimostra che, a partire dall'elencos, non vi è autofondatività. L'elencos non è autofondativo. Se qualcuno vuole dire che, invece, l'elencos è autofondativo, è bene. Questo qualcuno si deve spiegare per bene. Ok? Perché Galvan dimostra che l'elencos non è autofondativo rispetto a tre modi in cui si può definire sta benedetta negazione. Ok? Minimale, intuizionista e classica. Se qualcuno anche solo dice incontrovertibile, in significa non, non controvertibile, allora questo qualcuno ci deve spiegare che cosa vuole dire con questo non. Altrimenti non si arriva mai da nessuna parte. Ok? Non è che qui, se vogliamo essere seri, altrimenti, boh, cioè, altrimenti si fanno veramente solo chiacchiere. Io penso che Severino non abbia fatto soltanto chiacchiere, abbia cercato di esprimere un pensiero, abbia cercato di dire qualcosa. Bisogna andare a vedere che cosa ha cercato di dire, che cosa comporta aderire a quel pensiero, anche se non l'ha detto nelle forme della filosofia analitica, anche se forse vi è un problema di intraducibilità in una forma analitica del pensiero. Di quanto dice Severino? Dico forse. Forse è così, forse non è così. Le ricerche non sono andate avanti fino a questo punto. Non è che ci siano ricerche in questo senso, se si possa dire, beh, se il quanto dice Severino è del tutto contraddittorio, non può essere formulato in maniera non contraddittoria, e questo è il risultato. Ma non ci sono ricerche nel senso di dire, beh, sì, il discorso di Severino è informulabile dal punto di vista analitico, per questo motivo, questo motivo, quest'altro motivo. Ok? Questi sono discorsi, secondo me, costruttivi. Altrimenti continuare a fare dialoghi, diciamo, tirando in ballo Munchausen, non è questo il punto, perché anche se i principi, non principi, qua non si capisce manco che cosa significa principio. Siamo tornati a Munchausen, e qui, secondo me, scusatemi, ma voglio dirlo, qua non giochiamo a yo-yo. Qua non giochiamo, non si sta giocando a yo-yo. E vi ripeto. Severino, quando ragiona, come tutti noi, ragiona attraverso congiunzioni, negazioni, implicazioni. Cioè, non è che la logica formale nasce perché uno se la sogna di notte o quattro filosofi sono messi a tavolino e hanno scritto quattro formule. Attenzione, bene. La logica formale nasce, appunto, perché è una formalizzazione del modo di pensare umano. Ci sono poi due miliardi di logiche, più tempo passa e più ne nascono. Perché? Si tratta di formalizzare come noi pensiamo, come noi... la nostra consapevolezza del nostro modo di pensare, schematizzare questi modi di pensare. Quindi non è che uno scrive la formula e questa non significa niente. Significa qualcosa. Quindi non gli andrà nel profondo di quello che significa. Ok? Qual è la semantica dei connettivi logici? No. Questo è il punto. Che significa congiunzione? Che significa disgiunzione? Che significa negazione? Ok? Può significare diverse cose. Questo rientra, tra l'altro, lo voglio dire, questo rientra, appunto, in quanto scritto Galvan. Ci dà diverse definizioni, interpretazioni dei connettivi logici. Ci dice, guardate, che noi possiamo ragionare in un modo e in un altro e possiamo intendere questo per congiunzione e quest'altro per disgiunzione. Se un discorso deve essere fatto seriamente, vabbè, allora ci si impegna a farlo. Ok? Cioè, se no, non ha senso. Se no, si parla di nulla. Ora, io non lo so, se sta polemica vedo che va ancora avanti, non lo so, preparerò dei video dove seguiremo passo passo tutta la dimostrazione di Galvan. Perché è insopportabile un certo modo di parlare di filosofia, sminuisce pur, già non conta un cazzo la filosofia. Così diventa proprio una brodaglia dove non si capisce più niente. Allora, oggi invece, ho già perso troppo tempo, cercherò di introdurre, di fare, di dare dei cenni ad un problema grosso e naturalmente non può essere consumato in questo retto che cercherò di dire, in cui cercherò di dire, il problema è quella dell'ontologia del tempo. Ok? Ontologie temporali. Ci sono diverse ontologie temporali. Di che cosa si occupa l'ontologia temporale? L'ontologia del tempo. Di ciò che esiste relativamente al tempo. Ok? Ciò che esiste relativamente al tempo. Allora, il problema lo facciamo nascere in questi termini o problematizziamo in questi termini. Se io vi chiedo, esistono i dinosauri? Allora, stiamo con i piedi per terra. Vi affacciate fuori dalla porta, non vedete nessun dinosauro, ok? Cioè, andate, che ne so, a Milano, non vedrete dinosauri. Vi fate un giro intorno al globo terrestre, non vedrete dinosauri, ok? Quindi, basandoci su questa fenomenologia semplice, noi siamo tutti disposti, diciamo, penso che siamo tutti d'accordo che non esistono i dinosauri, ok? Ok. Ora, la non esistenza del dinosauro è paragonabile alla non esistenza di Sherlock Holmes? Questo è il primo problema. Cioè, possiamo dire che i dinosauri non esistono nello stesso senso in cui diciamo che non esiste Sherlock Holmes? Vedete? Dei dinosauri vediamo scritti sui libri. Di Sherlock Holmes vediamo scritto qualcosa sui libri. Affacciamo fuori, non vediamo i dinosauri, andiamo a Londra, non vediamo Sherlock Holmes. Quindi, sia i dinosauri, sia i Sherlock Holmes non esistono. Ma la non esistenza e quindi anche l'esistenza o presupposta esistenza dei dinosauri è paragonabile all'esistenza di Sherlock Holmes? Ora, questo fa nascere un problema, no? E questo cerca di collocare, ok? Che cose intendiamo con ontologie temporali? In qualche modo noi siamo disposti a dire che i dinosauri sono esistiti. Se voi non siete nemmeno disposti a dire questo, che i dinosauri sono esistiti, allora dovreste, per così dire, essere d'accordo sul fatto che nemmeno voi ieri eravate esistiti, cioè nemmeno voi c'eravate ieri, ok? È una posizione possibile, sì, anche questa è una posizione possibile, però non pagate, io vi consiglio se la pensate così, non pagate le bollette, ok? Perché se ieri vi è arrivata la bolletta, voi non la pagate, no? Perché domani può anche scomparire e non esserci. Vi dicevo, facciamo queste analisi, ok? Consentendoci, consentendo a noi stessi in queste analisi delle speculazioni che comunque non siano, non si allontanino troppo dalla stessa possibilità che ci ritrova che ci ritrova qui a fare le nostre analisi, ok? Per chi invece vuole essere pignolo ed è la prima volta che guarda questi video, gli dico di andarsi a vedere i video che ho detto sull'esistenza del mondo esterno, ok? anche Cartesi è costretto ad ammettere l'esistenza del mondo esterno. Proposizione primule, esistenza di agenti non onniscienti implica esistenza di un mondo esterno, quindi anche chi non vuole ammettere niente deve ammettere l'esistenza di un mondo esterno, l'esistenza delle bollette e così via. Ma ora qui stiamo parlando di ontologia, indipendentemente dalle metafisiche che condizionerebbero questo tipo di ontologie e quindi dobbiamo dire sì, c'è la possibilità di ammettere che l'esistenza dei dinosauri è analoga all'esistenza degli unicorni o di Sherlock Holmes. Però, però, normalmente noi siamo disposti a dire che anche se oggi i dinosauri non esistono, comunque sono esistiti. Mentre non possiamo dire che anche se oggi Sherlock Holmes non esiste, non possiamo dire che comunque sia esistito. Ecco, almeno definiamo ontologicamente il problema. Sherlock Holmes, gli unicorni e compagnia bella sono diversi dai dinosauri perché dagli unicorni Sherlock Holmes e compagnia bella non possiamo dire che siano comunque esistiti, mentre i dinosauri, per i dinosauri possiamo dire che comunque sono esistiti. Perché? Perché nel mondo presente avrete i fossili, eccetera, eccetera. avete delle testimonianze anche fisiche che vi dicono che ci siano stati i dinosauri. Ora, però si può ammettere che comunque esista soltanto una realtà presente è che le realtà passate che sono esistite si differenziano da realtà fantastiche unicorni e Sherlock Holmes proprio perché di esse si può dire che sono esistite, di Sherlock Holmes unicorni e compagnia bella non si può dire che siano esistiti. di fatto quindi l'ontologia al presente di dinosauri Napoleone e tutto ciò di cui diciamo si l'ontologia al presente di queste entità è diversa dall'ontologia al presente di entità come Sherlock Holmes o gli unicorni. Perché? perché noi nell'ontologia al presente quindi ammesso che esiste solo il mondo in questo momento nell'ontologia al presente non troveremo pezzi del corno dell'unicorno ok? Non troveremo la pipa di Sherlock Holmes ok? Ma troveremo i bottoni di Napoleone ok? Troveremo troveremo i resti di templi greci ok? Quindi questa distinzione tra entità che sono esistite ed entità che non sono mai esistite è avvalorata da ontologie enti ontolo ontologie al presente quindi enti che sono ora presenti ora quindi però possiamo dire prima distinzione possiamo dire che quindi comunque esiste soltanto una realtà presente ok? Vi ho fatto cenno nel video scorso al fatto che se mi sentite parlare di istanti di momenti questa è da dovete prendere come una astrazione linguistica per dire durate perché noi se vogliamo attenerci ad una descrizione fenomenologica che non vada ancora che che non sia ancora stata filtrata da ulteriori speculazioni non ci possiamo nemmeno permettere di dire un istante un momento però il mio modo di parlare è anche come quello di tutti gli altri e quindi alcune volte parlerò di momenti di istanti di indici temporali ma attenzione non intendo istanti intendo durate e quindi intenderò che si può indicizzare su intervalli di tempo eccetera eccetera ci sono dei problemi in questo senso sì ma sono problemi che dal punto di vista speculativo diventano dopo mezzorigo problemi di tipo matematico problemi a carattere matematico legato a teorie degli insiemi eccetera eccetera ma non posso entrare ora in questi dettagli quindi vi dico parlerò di istanti ma pensate che come durate allora il presentismo quindi chi ritiene che esista qua passano il tempo passa troppo veloce allora chi ritiene che esista soltanto la realtà presente un'intera realtà presente e non esiste quindi esiste la realtà presente in questo istante durato e non esiste la realtà presente nell'istante prima e non esiste la realtà presente nell'istante dopo funziona bene parlando in questo preciso istante c'è tutta la realtà prima e dopo c'è nessuna realtà problema del null evitiamolo però c'è soltanto questa intera realtà in questo istante presente di che tipo di presenza si tratta qui per ora non stiamo parlando di presenza a quindi presenza ad una coscienza presenza a qualcuno stiamo parlando presenza semplice semplice presenza cioè stiamo ritenendo che questa presenza non richiede qualcuno a cui questa presenza sia presente ok anche queste sono forti astrazioni però da qualche parte bisogna cominciare cominciamo da qui quindi c'è l'intera realtà e quando parliamo di presenza parliamo di semplice presenza quindi un'assoluta presenza ok la visione da nessun posto eccetera di nagle e così via no da nessun po' però stiamo astraendo fortemente poi introdurremo quando parleremo di apparire parleremo di presenza a però cominciamo da qui fortemente astratto questo discorso c'è una presenza semplice soltanto questa presenza semplice questa presenza semplice riguarda tutta la realtà la totalità della realtà ogni parola può essere contestata me ne rendo conto che qua anche quando parliamo di totalità della realtà ci sarebbe chissà che cosa da dire però dal punto di vista delle definizioni vi ripeto tutto questo in qualche modo può essere aggiustato non è che sia impossibile sia impossibile aggiustarlo perché invece di parlare di totalità parliamo tutta la totalità presente avremo risolto il problema va bene ok quindi realtà presente è quest'esistere della realtà presente al momento presente è l'unica cosa che esiste capite prima non c'è niente e dopo non c'è niente questo è il presentismo questo è il presentismo ora che cos'è un pensiero che nega il presentismo potete capire che possono esistere diverse forme di un qualcosa che noi possiamo dire essere non presentismo la prima è questa esiste anche qualcosa che comunque non è presente modo più semplice di dire di parlare di non presentismo esiste anche qualcosa che comunque non è presente però ci atteniamo a tutti quegli enti che presentano comunque delle ontologie al presente che ne testimoniano un'esistenza passata ma anche una possibile esistenza futura se voi vedete stanno progettando l'intelligenza artificiale oppure stanno progettando c'è un progetto no per andare a sbarcare sulla luna per arrivare sulla luna anche queste fanno parte di un'ontologia del presente e quindi queste possono essere ritenute per così dire entità presenti ora ma riguardano esistenze di strumenti navicelle spaziali che ci potranno portare sulla luna ok di questo stiamo parlando per ora non trovate la macchina del tempo dei libri di fantascienza nell'ontologia del presente non trovate non trovate per ora progetti di macchine del tempo ok quindi distinguiamo distinguiamo ciò che sono le fantasie per si dire le ontologie del fantastico dalle ontologie del tempo ora quindi vi ripeto per il non presentista può darsi il non presentista può darsi il non presentista può concepire il fatto che gli i dinosauri esistono anche se non sono presenti ok quindi per il non presentista il passato è qualcosa che può esistere per un certo tipo di non presentista può esistere il passato e non esistere il futuro per un altro può non esistere il futuro può esistere il futuro e non esistere il passato per un altro ancora può esistere sia il passato che il futuro oltre al presente si può anche concepire il fatto che ci siano i non presentisti pensare diciamo ad una posizione che sfiora in un certo senso queste speculazioni possono portarvi a pensare la posizione di qualcuno che dice esiste solo il passato e solo il futuro e non esiste il presente attenzione se ci riflettete non è manco così peregrina sta questione qua cioè nel senso che io quando uno dice io ho soltanto il senso della durata beh in un certo senso è in questa cosa significa e si potrebbe non lo facciamo in questo caso si potrebbe anche analizzare ciò che Edmund Husserl dice del tempo in questi termini però non è il nostro caso non lo analizziamo in questo modo allora fondamentalmente avremo tre posizioni un paio di posizioni il presentista puro esiste solo il presente l'intera realtà è presente non esiste nel passato né nel futuro in questo senso e abbiamo l'incrementismo e l'incrementismo ci dice che esiste il passato del presente ma non esiste il futuro ed il passato si incrementa mano a mano che il tempo passa attenzione attenzione stiamo utilizzando io stesso sto utilizzando sta nozione tempo passa tempo passa la utilizziamo ma bisognerebbe capire bene e non semplicemente in maniera intuitiva che cosa vogliamo dire con tempo passa per ora prendetela così intuitivamente poi andiamo un attimo a commentare i modelli mentali che ci fanno dire tempo passa quindi avremo l'incrementismo che dice esiste il passato ma il futuro non esiste e mano a mano che il tempo passa va ad aumentare ad incrementare il passato che significa vanno ad aumentare le cose che esistono perché se il passato esiste il numero delle cose esistenti mano a mano che il tempo passa aumenta ok aumenta il numero delle cose esistenti mano a mano che il tempo passa poi avremo l'erosionismo l'erosionismo invece ci dice no il passato non esiste il passato non esiste mano a mano che il tempo passa il tempo erode ciò che c'è e quindi il tempo consuma gli enti che sono nel futuro esiste il presente ed esiste il futuro significa semplicemente che esistono soltanto gli enti al presente e gli enti al futuro tutto ciò che è passato è eroso non esiste più è nulla quindi presentismo puro erosionismo incrementismo posizione alena non esiste il presente ma esiste il passato e il futuro stanissima tutta da considerare e posizione eternista la posizione eternista è quella che dice ragazzi esiste presente passato e futuro ora siccome tutti questi discorsi sono fatti in generale ma con un occhio sempre diciamo un dettaglio di tutto questo va sempre a finire severino 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 naturalmente si pone in una posizione eternista per severino esiste ciò che è presente ciò che è passato e ciò che è futuro attenzione bene però perché severino afferma che esiste il presente il passato e il futuro ora severino non parte dall'avere concepito il tempo tutto il discorso che abbiamo fatto noi no severino parte da una sezione che è l'assezione di Parmenide l'assezione dice l'essere e non essere non è è un'assezione che per Parmenide aveva sia un valore logico sia un valore fortemente normativo poi chi è interessato agli aspetti sociali e alle problematiche sociali che hanno portato Parmenide a dover dire l'essere e non essere non è io ho dedicato dei video alla storia della filosofia a tutta una serie di problematiche quindi noi attenzione quando parliamo di Parmenide stiamo parlando di quello che ora si intende per Parmenide non stiamo parlando del Parmenide storico allora è semplice se qualcosa è allora è negato che questo qualcosa non è punto ok quindi non ci può essere né un tempo non ci può essere anche non pensando al tempo chiaro non ci può essere un parametro rispetto a cui qualcosa che è si possa dire che non è quindi i dinosauri sono attenzione attenzione che qui nasce un problema per l'eternista e quindi anche per Severino chiaro? qual è questo problema? se i dinosauri sono anche Sherlock Holmes e anche l'unicorno è ma se questo è non comporta che in questo momento i dinosauri non sono il presentista può dire sì non sono ma sono esistiti e questo sono esistiti significa che non ci sono più ok? l'eternista ha un problema qui perché quando l'eternista dice i dinosauri sono ma sono esistiti et dice Sherlock Holmes è ma Sherlock Holmes non è esistito l'eternista ha un problema di distinguere che cosa significa non è esistito se il soggetto di non è esistito sono i dinosauri e che cosa significa non è esistito se il soggetto di non è esistito è Sherlock Holmes sugli unicorni e compagnia bella questo è un problema si può risolvere questo problema in qualche modo si può pensare di risolverlo per quanto riguarda Severino in qualche modo formalmente si può pensare di risolverlo qua si introducono operatori e in un qualche in un qualche senso si può risolvere questo problema si può pensare di risolverlo però attenzione dobbiamo introdurre per così dire degli operatori epistemici per risolvere questo problema c'è c'è quindi una differenza fondamentale mentre il presentista dice beh i dinosauri non ci sono più ma ci sono stati ok e distingue il ci sono stati dal ci sono per il fatto che i dinosauri non ci sono più e può dire i dinosauri ci sono stati perché lo può dire questo perché c'è stato un momento presente in cui i dinosauri esistevano capite l'eternista non può dire c'è stato un momento privilegiato attuale presente in cui i dinosauri c'erano ma ora questo momento privilegiato l'attualità il presente in questo momento non ci sono più e può dire non c'è stato mai un momento privilegiato in cui si è potuto dire il presentista vi ripeto può dire c'è stato un momento presente rispetto a cui i dinosauri erano attuali esistevano in quella realtà presente in quella realtà erano attuali ma non c'è mai stata una realtà attuale in cui Sherlock Holmes è esistito ed era presente questo è il modo in cui il presentista riesce a distinguere l'esistenza dei dinosauri dall'esistenza di Sherlock Holmes ma l'eternista in che senso può dire c'è stato un momento presente un momento privilegiato che era il presente della realtà in cui i dinosauri sono esistiti ma di questo momento presente attuale eccetera privilegiato non è mai esistito un momento privilegiato presente in cui è esistito Sherlock Holmes capite l'eternista deve non gli basta questo deve elaborare un'operazione in più per effettuare questa distinzione deve effettuare delle operazioni in più per ottenere questo stesso risultato deve introdurre quindi degli operatori in un certo senso degli operatori epistemici che distinguono diverse ontologie degli operatori epistemici che distinguono diverse ontologie attenzione che il problema nasce astrattamente proprio da questo attenzione bene dal punto di vista proprio astratto vedete l'eternista è costretto a dire per distinguere appunto Sherlock Holmes unicorni da dinosauri è costretto a passare dall'ontologia ad una qualche forma di elaborazione epistemologica ed è costretto a dire quel qualcosa che per te caro presentista esiste attenzione bene per me che sono un eternista è una epistemia cioè è una conoscenza il problema nasce da questo ma come attenzione 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 aprite gli occhi ma come la conoscenza ci dice cose che esiste e ciò che non esiste questo questo è il questo qui è il dilemma capite cioè è proprio all'origine questo dilemma ve lo farò notare passo passo in quanti punti nasce passo passo in tutte ogni tanto nasce questo problema mano a mano che noi seguiamo questo discorso nasce e si ripresenta lo stesso problema cioè l'eternista per l'eternista il problema ontologico diventa si muta si presenta in un problema epistemologico ma può ecco questo ma può un problema ontologico mutarsi in un problema epistemologico ehi chi è dentro la filosofia ne vede di cotte e di crude fatti e teorie no esistono i fatti sì ma questi fatti sono pieni di teoria ma allora com'è interveniamo nell'ontologia attraverso l'epistemologia quindi ecco perché vi dico non prendete per così dire severino un po' così come se no i problemi sollevati dal punto di vista strato e generale sono veramente problemi seri ok certo devono essere condotti in maniera serie però le discussioni devono essere condotte seriamente torniamo a noi quindi volevo dirvi severino severino attenzione bene severino non parte con considerazioni sul tempo parte con considerazioni di questo tipo qua qualcosa è allora non può che essere non può non essere quindi indipendentemente dal tempo o da altri parametri questo questa cosa è poi pensate il parametro del tempo pensate il parametro dello spazio o pensate il parametro alieno di qualcos'altro questa cosa qui è e non può non essere boh da lì non si muore la potete pensare per così dire come qualcosa relativa al tempo o relativa a bla 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 o relativa a xiputik a quello che volete questa cosa qui è stop indipendentemente da parametri eccetera eccetera però bisogna dirla tutto si fonda su le severino tensione bene attenzione io purtroppo questi discorsi ve li devo fare mischiando quello che verrà prima quello che viene dopo però il discorso diciamo è lineare cerco di condurre un discorso lineare ma la sottotrama di questo discorso consentitemi di farla per me diventa noioso dirvi solo questo la sottotrama non è più lineare e la segue soltanto chi è già un po' dentro di queste cose quel cui severino parte dal ok e ci fa convinti come ci aveva fatto convinti parmenide del che l'essere il non essere non è attenzione bene ma se poi tutto il discorso analitico di Galvani dobbiamo andare a finire a dire che questo non è un è ma è un appare ricordate quello che vi ho visto all'inizio noi dovremmo trasformare questa proposizione parmenidea che l'essere è il non essere non è in l'apparire appare e il non l'essere è il non essere l'essere e il non è e il non apparire non appare capite se noi supponiamo di seguire tutto il discorso siamo costretti a dire che l'apparire è in fondo l'essere e trasformiamo questa questa l'inizio per così dire anche del discorso che veniamo lo dovremmo trasformare in l'essere è il non essere non è in l'apparire appare perché quello è diventa appare l'apparire appare e il non apparire non appare abbiamo seri problemi qui in questo caso avremo dei seri problemi chiaro cioè se dobbiamo trasformare il problema ontologico in un problema puramente epistemico ok e ci atteniamo ad una visione epistemica dire che l'apparire appare boh quanto quanto lo possiamo sopportare ma dire l'apparire appare et congiunzione il non apparire non appare se questo è inteso in senso epistemico beh allora è riferita è riferita a qualcuno perché se è in senso epistemico non possiamo più dire beh ci mettiamo dal punto di vista da nessun luogo in senso epistemico c'è qualche soggetto che sa e beh allora come facciamo a dire che il non apparire come come dicevamo et non essere non è come facciamo a dire il non apparire non appare eh dobbiamo sempre dire allora che appare il non apparire a qualcuno l'apparire appare ma anche il non apparire necessariamente per poter dire non apparire deve apparire a qualcuno quindi vedete dal punto di vista epistemologico quello che dice dopo dopo il giro che ancora non abbiamo dopo tutta la deduzione abbiamo fatto forse sto se noi trasformiamo e passiamo quello che dice parlementi passiamo dall'ontologia all'epistemologia e diciamo l'essere è et il non essere non è e lo vogliamo trasformare in l'apparire appare et il non apparire non appare la prima parte ci può andare bene l'apparire appare ma il secondo congiunto et il non apparire non appare è più problematico perché per affermare che qualcosa non appare qualcuno deve a qualcuno deve apparire che qualcosa non appare e i problemi nascono lì bene il tempo scorre troppo velocemente non so che cosa riuscirò a dirvi allora quindi però arriviamo arriverò solo fino a un certo punto poi mi fermo quindi il presentismo abbiamo visto presentismo erosionismo incrementismo eternismo posizione aliena che non viene quasi mai detta non esistenza del presente ma esistenza soltanto del passato e del futuro ecco se qualcuno vuole fare filosofia che tolga il presente e pensi all'esistenza solo del passato e del futuro e vedere che cosa ne viene fuori dal punto di vista semplicemente speculativo molte volte voi vi vedrete dei libri e in questi libri appaiono figure di questo tipo no vedete un bel cubo dei cilindri dove c'è un passato presente e futuro ora lo vedete lo vedete spostato rispetto a sinistra a destra vedete a destra a sinistra allora questi sono soltanto delle schematizzazioni attenzione non fidatevi troppo di queste schematizzazioni grafiche ok perché queste possono indurre a facili errori grosso modo avrete questa avrete questa posizione per il presentismo esiste soltanto ciò che è su questo piano ciò che precede e segue questo piano non c'è ok per il presentismo dunque solo questa è la realtà per l'incrementismo esiste soltanto il passato ed il presente e per l'erosionismo esiste soltanto il futuro ed il presente avete effettuato soltanto attenzione queste sono soltanto schematizzazioni non vi fidate di questi disegnini per ragionare sul tempo il problema di queste schematizzazioni consiste in questo quando voi immaginate che si sta muovendo questo piano ok che cos'è in realtà che accade voi immaginate il piano che si muove il piano si muove ed avrete il presente e a secondo dove si trova il piano avrete il presente però che cos'è questo movimento di questo piano che voi vedete solo geometricamente ve li immaginate come qualcosa che si muove che cosa significa questo scorrere del piano con cui immaginativamente noi molte volte confondiamo assimiliamo lo scorrere del tempo questo scorrere del piano significa che la realtà di tutti gli enti presenti nel piano è cambiata e non avremo gli stessi enti nel piano successivo questo è che significa per il presentista puro da cui noi cominciamo il nostro discorso se avremo A e B molto facilmente avrete due su questo piano di realtà avrete due enti A e B B cessa di esistere e C un altro ente c'è bene il passaggio da A a B a da C è da pensare come quello che è l'analogo dello scorrere di questo piano capito noi non c'è niente che scorra noi schematizziamo questo scorrere con il pensare alla cessazione o creazione dell'esistenza di certi enti se non dovessero esserci altri enti creati che prima non c'erano e poi ci sono o altri enti che cessano di esistere il piano non scorrerebbe chiaro? questo deve essere chiaro che qua non siamo al cinematografo ok? non è che c'è qualcosa che scorre indipendentemente da creazione ed annichilazione il piano scorre perché si pensa dal punto di vista presentista ad annichilazione e a creazione altrimenti questo piano non scorre ok? l'avete capito questa roba qua? se no non se ne capisce niente voi quando pensate che il piano sta scorrendo dovete pensare alla cessazione dell'esistenza o all'annichilazione dell'esistenza questo dal punto di vista presentista altrimenti questo scorrere è lo scorrere determinato da un operatore epistemico e questo è un discorso che può fare soltanto l'eternista l'eternista ci deve spiegare che cos'è questo scorrere se tutti gli enti continuano ad esistere e sono sempre esistiti e questo non può essere determinato dall'ontologia capite? deve essere determinato da un operatore e che cosa significa? che cosa vuole dire questo operatore? come fa questo operatore a dirci che qualcosa ci appare ora e non ci è apparsa ieri? ma è una questione epistemologica chiaro? è una questione epistemologica che riguarda operatori epistemici questo è un discorso che ho voluto oggi sottolinearvi ed insisto su questo punto perché è un punto importante e lo trovate proprio all'inizio vi faccio notare che attenzione bene attenzione bene vi faccio notare che se la posizione di Severino è una posizione ontologica quella è ha un valore se la posizione di Severino è una è una posizione epistemologica quella è ha un altro valore ok quella è ha un altro valore significa un'altra cosa significa propriamente questo lo vedremo alla fine di questi video che non so quanti saranno però ho intenzione di precisare i singoli passaggi di tutta questa questione se è una questione epistemologica allora Severino parte da un punto ma poi in qualche modo contraddice quel punto o risemantizza quel punto in maniera tale che il discorso di Severino deve essere ridefinito dal punto di vista ontologico questa è la questione ora c'è però un problema attenzione bene ora abbiamo parlato dei problemi che possono nascere sin da subito da una concezione eternista ok sin da subito l'abbiamo visto ok non si capisce cioè dal punto di vista eternista non si capisce che cos'è questo scorrere del tempo ecco questo è il punto la questione ok l'eternista deve introdurre degli operatori epistemici per dirci che cose si può intendere per scorrere del tempo altrimenti ci dobbiamo attenere ad una più semplice visione presentista chiaro però però non lasciamo a digiuno nessuno anche la visione presentista ha il suo problema qual è questo problema il primo problema che nasce ed è un problema serissimo serissimo è il fatto che la relatività ristretta la relatività ristretta ci ha detto che non esiste ci dimostra ci mostra fenomenologicamente attenzione che la scienza è anche fenomenologia ci mostra che non possiamo considerare un piano totale intero di realtà simultanea questo è un fatto fondamentale quindi il presentismo qui entra in crisi capite cioè attenzione attenzione che voglio dirvi ora vado a leggere due pagine due pagine di un testo di torrengo che affrontano questo problema e vediamo un po' come la filosofia accademica cerca di risolvere questo problema attenzione bene attenzione bene voglio che sia chiaro un punto se non esiste un piano di simultaneità per gli enti e beh allora non possiamo parlare di un piano di realtà in cui tutti gli enti sono esistenti e presenti capite se non possiamo parlare in modo assoluto di un piano di simultaneità questo piano di presenza in cui tutti gli enti sono presenti ed esistenti beh cari miei non c'è non è possibile è un'impossibilità di pensiero e questo viene dalla relatività ristretta attenzione bene attenzione bene la relatività ristretta ci impedisce la possibilità di pensare concretamente a qualcosa del genere e la relatività ristretta fa parte dell'ontologia del presente ok non è che qualcosa dove va e va a sprugugliare da qualche altra parte ok c'è l'ontologia del presente ha anche la relatività ristretta e fa parte della fenomenologia del presente e questa qui entra in contraddizione con un pensiero che ci dice che esiste un piano di realtà del presente che sia un piano simultaneo e valevole per tutti gli enti allora per essere coerenti per essere coerenti noi in qualche modo è necessario che si rinuncia a questa forma di presentismo però chi ascolta deve sapere come si svolgono come si svolgono dal punto di vista accademico alcune cose no alcune questioni come le risolvo come l'accademia risolve queste questioni un attimo che trovo che trovo un passo e ve lo leggo vi leggo cosa dice Torrengo in un libro sul tema dopo tutto se esiste solo il presente sembra corretto concludere che tutte le cose che esistono sono fra loro simultanee purtroppo per motivi sulla cui spiegazione rimandiamo altrove l'idea che esista un piano di simultaneità assoluta qui dice sembra è interessante sembra contraddetta dalla teoria della relatività speciale di Einstein ci sarebbe davvero da fare un appendice su questa questione e non è escluso che non la farò perché si è capito bene sto concetto qui comunque il dibattito mi interessa questa chicca ora il dibattito su questo caso specifico di conflitto tra fisica e metafisica è ancora in corso nonostante le diversità di opinioni un'idea prevalente fra i sostenitori del presentismo è che il conflitto sia solo apparente ora a me a me fa ridere questa parola apparente il conflitto è solo apparente in termini un poco più precisi che ci sia reale conflitto o meno reale conflitto o meno dipenderebbe dal modo in cui decidiamo di attenzione bene altro verbo dipende dal modo in cui decidiamo di interpretare i modelli matematici che stanno alla base della teoria della relatività speciale e nomina Marcosian 2004 cosa dice Marcosian nel 2004 che esistono due interpretazioni semplificando un po' la prima interpretazione consiste nel prendere la teoria della relatività alla lettera e cioè nel leggerla come una teoria sui limiti intrinseci della realtà beh in questo senso la teoria afferma che non può esistere alcun piano di simultaneità assoluta afferma insomma che una simile entità è un'impossibilità fisica per la seconda interpretazione invece i modelli matematici non andrebbero letti come affermazioni su cosa esiste o cosa no e cosa no andrebbero piuttosto presi come affermazioni sui limiti intrinseci della conoscenza umana delle affermazioni su ciò che possiamo e ciò che non possiamo conoscere un piano di simultaneità assoluta non è osservabile non che non c'è ma che un piano di simultaneità assoluta non è osservabile il lettore avrà capito che per un presentista è vantaggioso optare per quest'ultima lettura una volta mostrato che il conflitto non è necessariamente risolvibile il presentista affermerà di avere ragioni indipendenti da considerazioni di ordine fisico e cioè considerazioni di ordine metafisico a favore dell'esistenza del piano di simultaneità assoluta quello che vi voglio far notare è che anche il presentista è costretto a passare da un piano ontologico ad un piano di interpretazioni ad un piano epistemologico anche il presentista arrivato a questo dovrà dire beh dovrà affrontare il problema di dire che cosa facciamo quando conosciamo e quindi dovrà dire beh esiste un'ontologia e l'ontologia è diversa dalla epistemologia e l'epistemologia non si occupa di ciò che è ma di ciò che noi interpretiamo di ciò che è ma allora scusate potrebbe dire diciamo io che sono l'uomo della strada ma allora scusate da dove cazzo le prendete le informazioni per quest'è se non da qualche forma di conoscenza capite quale caspita è il problema il punto è che dal punto di vista molto generale astratto noi io insieme a voi se avete capito quello che vi sto cercando di dire siamo giunti già ad una forma di conclusione diciamo una forma di deduzione un argomento per dire che qua è molto difficile distinguere l'ontologico dall'epistemologico basta grattare un attimo e subito da problemi di carattere ontologico arriviamo a problemi di carattere epistemologico e viceversa 1 dal punto di vista invece dell'eontologia del tempo abbiamo visto che sia l'eternista sia il presentista l'eternista e abbiamo visto perché ed il presentista perché deve fare i conti con quanto dice la relatività restretta speciale sulla simultaneità tutte e due però sono costretti giungono ad una necessaria ad un necessario ad un necessario sbocco epistemico sarà per tutte e due necessario uno sbocco epistemico a ciò che loro dicono perché il loro discorso risulti un po' coerente e continui esso stesso come discorso ontologico volevo dire molte altre cose ma realmente non c'è non c'è il tempo ci impiegherò più del previsto grazie e al prossimo video grazie a tutti